musica 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 ma non ho un frase troppo po' gary ah 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 io ero solo per il channel sport gary ultimo non so dove si va per il mio hola eccolo in ultimi omaeva muo shindeiru nani musica muooo lalala lalala musica c'era solo uno scimmie comanda questa giungla non ti info man really ma che mamma tu cosa succede mezzo Cosa c'è da a faccio il nubile It's over 9000 Ma piglio pesce in bocca Bocchini mamma Che la droga, la cessa Che ha mezzo con pesce Con tutta la droga Liquid poop Yeah Liquid poop Ma io ass Ma tu, tu, non lo vedo Non lo vedo, bro Non lo vedo Why French people create bidet and don't lose Why people friends create bidet and don't lose Man, it's very good bidet I got overseas for pop and it was a bidet My ass Religione più importante del computing, ragazzi Dove ne ho trovato un'altra religione così? Dove? Dove cazzo la trovare? Il grande oranesimo Dove puoi avere quattro mogli Dove l'adultario maschile non è un crimine Ma solo le donne è un crimine Però le donne possono diventare papisse e prete Cento centimetri Guardate, immagina avere un cazzo di un metro Che schifo E' un po' la punta cos'è E' un po' la punta cos'è E' un po' la 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 Non lasse i tuoi figli What's it E' un po' la